Ciao a tutti e sapete benvenuti a un nuovo short sul mio canale bene, domani o dopodomani non lo so è Santa Arturo, ovvero una mattina di mio fratello però oggi l'abbiamo dovuto festeggiare tra virgolette perché diciamo non ci può fare tanto e quindi mi ho organizzato una festicciola con i nonni ora il prossimo short sarà l'immagine della tavola e poi dopo i nonni perché ancora non sono arrivati quindi auguri Arturo fatemi sentire qui sotto nei commenti visto che non commenta mai nessuno gli auguri per il mio fratellino